Ah, praticamente c'è questa ragazza qua, no? Come si chiama, Erma? Aspetta, come si chiama questa ragazza? Eh, la... Eh, non posso dire, perché mai la conosci. Facciamo un sinonimo. Eh, Luana. Luana, un nome proprio casuale, naturalmente. Un nome virginale, diciamo. Molto virginale. Sostanzialmente vado a bere con l'estra operativo qua. E stavolta si vede una domenica di chiavare. Infatti lei... Ma tu come facevi... Aspetta, Emma. Come facevi a cogliere questa voglia sua di chiavare? Praticamente era nel balcone del bar. Praticamente così, no? Allora... Allora mi sa che vuole chiavare. Allora praticamente... Ci arriva la minchia, no? Che praticamente... Questa mattina qua, sotto il netto. Allora adesso la porta un attimo fuori. Andiamo dentro in macchina. Aspetta, aspetta. Cioè, tu la prendi dal bar, la porti fuori. Dove l'hai portata? In macchina. In macchina. Ma poi le macchine c'erano subito i campi di grano dietro. Abbiamo subito il campo di grano. L'abbiamo. Eravate in due. No, no. L'abbiamo nel senso io. L'abbiamo nel senso... Plurale maestatis. Noi, nelle mie multitudini. Sì, sì, sì. Praticamente perché non ero solito che volevo chiamarci. Sei come multitudine. Gli altri me stessi li volevano chiamarsi. Questa è stata una gamba, non ci appazzesca. Praticamente l'ha portato nel bosco, no? E questa qua è la... L'abbiamo preso la bottiglia, no? Un po' più grande era praticamente perché... Era quella davvero in mezzo di Moretti. Il baffo, eh? Il baffo, sì. Allora, praticamente io sono andato ad inserire, no? Prima molto lentamente, il forno della bottiglia. E poi è arrivato il pezzoforte, immagino? Ho fatto così, no? Praticamente. A stantuffo? Così, no? Sì, esatto. Mamma! E lei, e lei nel mentre, nel mentre, nel mentre? E avevo paura perché si fa spaccare il vetro per sapersi direzionare gli organi interni. Ma invece non le bastava quella bottiglia lì. Ma va, cercava con la mano dietro così non riuscivo a prenderla. Allora ha detto fammi prendere con un bastone in modo tale che io riesco a recuperare una bottiglia e tirarla fuori, no? Allora, quando andavo così con questo bastone qua... Sei riuscito... Erma, tu sei riuscito a stare la bottiglia dopo di che l'hai spalancata... Quando andavo tirato fuori tutto, c'era un sacco di roba in quella pagina lì, no? C'era un oggetti retrodomesti, c'era di tutto, colturi di 3, 4, 5 anni fa... Erma, aspetta, aspetta... Ma tu sei... Poi, ok, abbiamo uscito fuori tutto... Uscito fuori la sgombera... Dopodiché... Sam? La viera sgombera... Allora ho tirato fuori la mia minchia poderosa, no? Ok... Ho tirato fuori la minchia... Cosa ridi? Era veramente così, no? Prima era una roba così, no? Era una roba così... E lei lì? E lei lì cosa ha detto? Lei... Lo facevo così, no? Pua! E' scherzata via... E' scherzata via... E' nato nei campi a cercarlo... Come Sasuke? E' nato via... E' nato via... L'unica tempo da perdere... E' cercato a portare in giro per i boschi... E' scherzata... E basta... E' stata via... E' nato 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 via...